Uno dei ricordi più netti che ho della mia esperienza di spettatore al cinema è la prima visione, insieme a mia zia, di 2001 di Sena nello spazio di Stanley Kubrick. Un film che non capì fondamentalmente ma che mi colpì profondamente per alcune scene, alcune immagini, questi colori, questa tematica che intuivo essere in qualche modo misteriosa al tempo stesso, affascinante. Ho impiegato anni ovviamente e a ogni visione questo incredibile capolavoro rivela qualcosa di nuovo. Una delle caratteristiche dei grandi artisti, e Kubrick sicuramente lo è, è quella di anticipare i tempi. Uno dei personaggi chiave del film, Al 9000, allora si sarebbe detto il calcolatore elettronico, il computer. Il tema di Al 9000 anticipa uno dei temi di cui stiamo discutendo oggi, ossia il tema dell'intelligenza artificiale. Come dicevo all'inizio, l'intelligenza artificiale è nata sulla premessa errata che l'intelligenza umana sia fondamentalmente un algoritmo, ossia la nostra mente sia in qualche modo sovrapponibile a una cognizione eminentemente di tipo linguistico. E quindi si diceva quello che è veramente importante non è tanto il supporto materiale che nel nostro caso di esseri biologici e il nostro corpo, quello che conta è il programma che gira su questo substrato organico, ossia appunto l'algoritmo. Diciamo che nel corso degli anni ci si è resi conto che seguendo questo percorso non si sarebbe stato in grado di conseguire quei traguardi che, non dico erano visti a portata di mano, ma alla fine negli anni cinquanta del secolo scorso si riteneva che fossero conseguibili. E quindi si è deciso di seguire un'altra strada, non più parlare di intelligenza artificiale, ma di artificial life, vita artificiale. Partendo dall'idea che per realizzare un essere intelligente di natura artificiale si dovesse mimare la fisicità del corpo umano, dell'essere umano. E l'esempio che viene in mente subito è quello di il film di Ridley Scott, Blade Runner, dove diciamo gli androidi vengono esaminati per capire se sono tali o se sono esseri umani usando l'empatia, quell'empatia da cui siamo partiti all'inizio, come metodo di giudizio per capire appunto la loro natura umana o artificiale. Un altro film che mi viene in mente, bellissimo, di questi ultimi anni, molto più vicino a noi, è Ex Machina, dove di nuovo uno dei protagonisti della Silicon Valley mette a punto questo programma incredibile che è in grado di mimare in tutto e per tutto l'essere umano, inclusa la capacità dell'empatia. Bene, se noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo nella Silicon Valley oggi, ci accorgiamo come l'asse principale della ricerca non è più soltanto concentrato su, in qualche modo, la realizzazione pratica di quello che vediamo nel film Ex Machina o che vedevamo in Blade Runner, ma si è tornati a una nozione di intelligenza artificiale puramente algoritmica. Quindi diciamo così, oggi molte delle persone attivamente coinvolte in questo tipo di ricerca che ne ho incontrate alcune anche recentemente, dicono che rinunciamo totalmente a qualsiasi grado di antropomorfismo. Quello che ci interessa è mettere a punto un programma utilizzando dei sistemi di apprendimento, di machine learning che in qualche modo, ma solo in parte, sfruttano le nostre conoscenze sul funzionamento del cervello, per costruire un'intelligenza, alcuni dicono che potrà in qualche modo, a un certo punto, superare le capacità e le competenze dell'intelligenza umana fino a, in qualche modo, vendicare al 9.000 e quindi segnare la vittoria definitiva della macchina nei confronti dell'essere umano. Ci sono persone, non dei matti, ma delle persone attivamente coinvolte in questo tipo di ricerca che in un modo abbastanza inquietante prevedono come nel giro di qualche decennio questa possa essere una realtà effettiva, ossia il trionfo della macchina, la vendetta di al 9.000. In scienza è sempre difficile fare delle previsioni e diciamo la quotidianità dell'epidemia del Covid lo dimostra ogni giorno di più. Diciamo che se siamo abbastanza tranquilli sulla possibilità di vedere realizzati degli android in tutto e per tutto simili all'essere umano e quindi facilmente confondibili con un essere umano, credo che questo non sia all'orizzonte né oggi ma probabilmente nemmeno tra 10-20 anni, la possibilità di questi programmi di ottenere dei risultati straordinari dal punto di vista di alcune competenze dell'intelligenza mi sembra molto più realistica. Questo non significa che queste macchine saranno degli esseri umani più potenti proprio perché a priori rinunciano a mimare l'essere umano per concentrarsi su alcune competenze che noi abbiamo sviluppato in un certo grado e che verosimilmente questi programmi saranno in grado già oggi in molti ambiti, la macchina fa meglio dell'essere umano e quindi questo solleva tutta una serie di interrogativi relativi al mondo del lavoro, relativi a come sarà la nostra società quando questo avverrà.